Ciao, ci troviamo presso My Skin Bar, in via dei discipioni 19. Il trattamento di epilazione laser medicale effettuato con la tecnologia Alma Soprano è adatta a tutte le tipologie di pelo, grazie alle tre lunghezze d'onda presenti nel manipolo, per trattare peli chiari, scuri e peluria. È inoltre adatto a tutti i fototipi, anche su pelle bronzata, e si può effettuare in ogni periodo dell'anno, grazie alla certificazione FDA. L'innovativa tecnologia InMotion permette di trattare grandi aree, come gambe e schiena, in tempi brevissimi. Grazie al raffreddamento del manipolo A3 con il brevetto ICE, il trattamento risulta essere indolore e confortevole. Il ciclo del pelo si ripete ogni 21 giorni, per cui sono necessarie dalle 7 alle 10 sedute, per ottenere un risultato ottimale. Le sedute vanno fatte distanziate 30 giorni l'una dall'altra. Che aspetti? Contattaci per saperne di più.